Buona musica, sano divertimento e degustazioni enogastronomiche. Questi gli ingredienti dell'edizione 2018 del Soul Festival, l'evento promosso ad Alberobello, tra le più antiche e accreditate aziende vitivinicole del territorio dei Trulli. Vediamo. Si è svolto ad Alberobello il Soul Festival, l'evento promosso dall'Albea, Cantina Museo. Sul palco si esibita la Rimbam Band, gruppo composto da cinque musicisti, Raffaele Tullo, Voce Percussioni, Renato Ciardo, Batteria, Vittorio Bruno, Contrabbasso, Francesco Pagliarulo, Pianoforte, Nicolo Pantaleo, Al Sax, che ha divertito il folto pubblico presente all'evento. Durante l'esibizione sono stati proposti e rivisitati in chiave ironica alcuni grandi successi firmati da maestri della musica italiana come Ariliano, Buscaglione e Carosone. Prima dello spettacolo, nel cortile del Teatro Alberobellese, si è svolta una invitante e degustazione dei vini etichettati albea, di salumi pregiati, lavorati dall'alta norcineria a Renzini e di panzerotti, rigorosamente fritti. L'evento prende il nome da uno dei più importanti vini prodotti dalla cantina, il Soul, primitivo di gioia del colle in purezza, affinato in barrique per 15 mesi, vincitore di numerosi premi in Italia e all'estero. È stato patrocinato dal comune di Alberobello e sponsorizzato dalla Fagnulo e dalla Banca Popolare Pugliese, agenzia di Alberobello. Tra i circa 400 partecipanti al Soul Festival 2018, anche gli ospiti internazionale dell'Albea Day, la giornata di approfondimento ideata da Claudio Sisto, enologo ed amministratore dell'Albea. Obiettivo, condividere con i clienti e i componenti dell'area commerciale i risultati ottenuti nel corso dell'ultimo anno e i progetti in fase di realizzazione.